Sono il must di ogni estate e anche quest'anno le borse in paglia si riconfermano un accessorio assolutamente trendy. Non dovremo aspettare le vacanze per sfoggiarli ora possono essere indossati anche lontano dalla spiaggia. Ecco tutti i modelli da tenere d'occhio. In questi tempi di tempo pericolosamente indeciso e guardaroba senza stagioni, sono sempre meno i capi e gli accessori che riconducono inequivocabilmente alla bella stagione. Le borse di paglia sono senza dubbio tra queste. Realizzate artigianalmente o in stile vintage, rifinite in pelle, iperdecorate o minimal, restano le regine indiscusse dei mesi estivi. Relegarli però solo in spiaggia sarebbe un vero peccato, visto che in realtà sono un pezzo dalle altissime potenzialità fashion. Non a caso sono numerosi i brand che le hanno ormai sdoganate, trasformando le borse da spiaggia per eccellenza a 8 bag sfoggiare anche e soprattutto in città. Visualizza questo post su Instagram un post condiviso da nukive facile alternativa alle classiche tracolle e tote bag, riescono a dare un twist assolutamente nuovo ai look da giorno e da sera. Ma come portare la borsa di paglia tra asfalto e palazzi in attesa delle tanto attese vacanze? Il segreto è considerarlo come un qualsiasi accessorio neutro. I modelli in paglia rafia sono infatti super versatili sia che tu voglia optare per un secchiello o pratica versione a tracolla. Che tu preferisca una pochette mini bag dalla trama paglia intrecciata, il rischio di incorrere in scivoloni stile è praticamente nullo. Vuoi osare? Il nostro suggerimento è di dare una chance alle varianti colorate o con le frange, perfette per avvivare qualsiasi outfit. Borse di paglia le proposte da non perdere per l'estate 2023 ci sono così tante borse di paglia da donna tra cui scegliere in questa stagione. Non solo modelli capienti e comodi da riempire con tutto il necessario per affrontare le affose giornate fuori casa, ma anche eleganti borsi a mano in paglia e pochette compatte, ideali per completare outfit da sera. Spazio anche alle basket bag dall'inconfondibile French Touch alla Jane Birkin per intenderci di ei quelle in paglia a secchiello, entrambe strutturate e dal design morbido. Abbiamo setacciato boutique e shop online alla ricerca delle borse di paglia più cool del momento e selezionato tutte le proposte imperdibili per l'estate 2023. Pronte a scegliere la vostra preferita? Tote bag in paglia, mango volumi XXL per il giorno capiente, anzi capientissima, la borsa paglia intrecciata di mango con doppio manico in pelle color cuoio e comoda pochette interna tela removibile. Perfetta per le giornate impegnative grazie alla tracolla staccabile, può essere indossata anche con un blazer. Borsa di paglia a mezzaluna, Isabel Marant stile gaucho per dare grinta al look l'iconica estetica gypsy chic di Isabel Marant delinea questa borsa a mezzaluna con tracolla regolabile. Un must per aggiungere la giusta dose di grinta anche alla più classica delle combustive, cu.